L'estate prossima la strada provinciale 20, denominata cartiera, quella che collega Pianella all'area vestina, tornerà ad essere percorribile nel doppio senso di marcia dai pendolari. Ad annunciarlo il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, nel corso della conferenza di presentazione dei lavori, che avranno un costo pari a 363 mila euro per la messa in sicurezza, con opere a carattere strutturale in cemento armato, oltre ad interventi di risargomatura stradale. L'intervento, programmato dalla passata amministrazione, è stato possibile dopo variazioni apportate alle convenzioni tra regioni Abruzzo e provincia di Pescara. Siamo ovviamente contenti per gli sviluppi che la vicenda sta avendo. Ovviamente i finanziamenti risalgono a qualche tempo fa, ma purtroppo per come erano stati strutturati non erano compatibili con la possibilità che un ente come la provincia, ridotto ai minimi termini dalla riforma del Rio, potesse effettivamente impiegarli. Quindi erano finanziamenti di fatto solo sulla carta. Da quando luglio scorso il nuovo governo regionale ha modificato le convenzioni, così come richieste dalle province, è aumentata la disponibilità finanziaria immediata, per cui da lì ovviamente questo finanziamento, che era solo teorico, è diventato concretamente utilizzabile ed è stato poi dato l'incarico per la progettazione esecutiva e quindi a questa che è già completata e che gentilmente la provincia ha voluto condividere con la nostra amministrazione, seguirà la procedura di affidamento lavori e poi spetterà a tecnici ed imprese portarle a termine nel più breve tempo possibile. Grazie Grazie